vai vai inizia te, sono troppo sonnato bella raga da etf oggi siamo qui con il vent 125 doppio scarico che è il punto forte del canale molto famoso oggi andremo a fare delle modifiche a questo vent 125 che vi facciamo vedere il fantastico doppio scarico quindi adesso iniziamo subito a prepararci mettiamo al lavoro, prendiamo gli attrezzi e facciamo le modifiche ok quindi con delle tenaglie andiamo per prima cosa a rimuovere la targa dal porta targa perché ci sono i rivetti allora raga abbiamo appena... che cazzo abbiamo fatto? allora raga abbiamo appena schiacciato con le pinze i rivetti così che riesce a passare sul porta targa e quindi riusciamo a farli insomma passare senza andare a rovinare il supporto di plastica allora adesso andiamo a togliere i rivetti ok quindi facendo leva con un cacciavite con le mani andiamo a portare la targa fuori dal supporto di plastica allora stiamo a provare a togliere i rivetti con il cacciavite facendo leva ma in realtà sono un botto duri e quindi non riescono a venire fuori allora con il cacciavite non ce la facevamo a togliere i rivetti vai vai a togliere i rivetti quindi abbiamo preso il trapano sì e andiamo a trapanare i rivetti in modo che si allargono i buchi e quindi togliamo sempre con il filo dopo allora perfetto siccome non è arrivata abbiamo preso una prolunga lsq andiamo a trapanare i rivetti allora adesso raga andiamo a togliere questi altri due rivetti del supporto del porta targa quindi se avete capito stiamo montando un porta targa della camoletto racing lo facciamo vedere l'abbiamo fatto vedere anche in un altro video miglior porta targa che esiste in commercio esatto l'abbiamo provato è veramente utile fantastico perché fa un design davvero più sportivo e inoltre è un porta targa on off che quindi riusciamo a staccare e attaccare se vogliamo andare a fare il duro oppure no allora dentro la confezione troviamo sempre il porta targa on off che praticamente si stacca e si toglie e rimane questo così bellissimo in più troviamo anche i rivetti i distanziali e tutti i rivetti per il montaggio quindi avete insomma tutto l'occorrente per montarlo direttamente facciamo il link in descrizione allora stavamo scegliendo l'altezza su cui appunto mettere questo porta targa perché se facciamo coincidere i fori e insomma l'altezza sarebbe questa e non ci sta troppo quindi abbiamo deciso di farlo coincidere con la linea che quindi abbiamo un risultato così è molto meglio e più più bello insomma più esteticamente migliore esatto quindi dobbiamo fare in questo caso tre fori invece che solamente due trapano punta buchi per il porta targa let's go allora ora andiamo andiamo a montare il supporto dove andiamo a ganciare poi la targa quindi vite distanziale nel foro che abbiamo fatto precedentemente poi rondella e dado star sempre esatto ok raga abbiamo appena tirato tutto il supporto esatto col distanziale tutto quindi ora passiamo al step successivo allora la rivettatrice la famosa rivettatrice l'ultimo video esatto allora quindi andiamo a rivettare la targa sul porta targa allora raga ci servono delle pinze perché sennò il rivetto non si mette quindi facciamo parire le pinze perfetto raga pinze prese quindi ora continuiamo ma sono maestro adesso i rivetti quindi facciamo il risultato finale adesso come è venuto sul porta targa on off allora porta targa montato sul vent esatto raga spettacolo rispetto a prima stra bello stra stra bello fa vedere tommy g la funzione on off che è la funzione principale esatto andate a fare enduro andate a fanculo prendete e togliete e rimane fantastico raga non vi si rompe la targa se sbattete esatto adesso questa parte qua poi la taglieremo in modo tale che rimane ancora più pulito vi facciamo vedere adesso la linea della moto con il porta targa perfetto raga quindi abbiamo effettuato delle prime modifiche al vent 125 modifiche davvero croccanti davvero tanta roba quindi raga fateci sapere se vi piace la linea della moto così e se volete anche altre modifiche sul vento esatto fateci sapere nei commenti fateci sapere cosa ne pensate questo porta targa iscrivetevi al canale soprattutto esatto raga iscrivetevi perché il 60% non hai scritto lasciato il like un commento e bella raga e bella raga iscrivetevi al canale